Nato nel 1984, negli ultimi due anni il circolo culturale Angiola Bianchini di Fano ha iniziato ad aprirsi alla città, coinvolgendo anche i più giovani attraverso un nuovo linguaggio di comunicazione. E l'ultima rassegna, intitolata Esplorare i confini, ha proprio questo obiettivo, condividere e divulgare con tutti la storia, l'arte, la musica e la letteratura, grazie alla presenza di ospiti illustri ed esperti del settore. Gli otto appuntamenti, in programma fino a metà dicembre, verranno trasmessi sul canale 17 di Fano TV. L'emittente, infatti, è media partner dell'iniziativa che beneficia anche del patrocinio del Comune di Fano. La rassegna prenderà il via domani alle 16.30 con Silvio Garattini, scienziato e farmacologo, che ci parlerà dell'impatto della pandemia da Covid-19 sulle strutture sanitarie. Ogni appuntamento verrà trasmesso in replica il giovedì sera alle 21.15 e la domenica alle ore 21. Seguiranno delle puntate a cura del maestro Enzo Vecchiarelli, quindi di ambito teatrale musicale, una su Gianni Rodari e una su Achille Campanile. Ci sarà un'altra intervista di ambito medico al dottore Emanuele Angelucci, ematologo, direttore di ematologia al San Martino di Genova. Quindi un'intervista al maestro Oscar Piattella in occasione della sua personale allo spazio d'arte Pescheria di Pesaro. Ci sarà una puntata su un grande scrittore musicista del romanticismo, Hoffman, che quindi comprenderà sia conferenza che esecuzione musicale. E quindi per concludere una puntata su Pompei, sullo stato attuale degli scavi di Pompei a cura di Valeria Purcaro. E ultimissima una puntata sul canto quinto del purgatorio, quindi Jacopo del Cassero, descrizione di San Domenico, quindi un tema che unisce sia il tema dantesco, che insomma il tema della nostra città, insomma delle memorie storiche di Fano. La rassegna rientra nel più ampio progetto denominato Zaffiero d'Oriente. Da gennaio infatti si svolgeranno altri 35 incontri in presenza, Covid permettendo. Si andrà dalla poesia alla storia del Carnevale di Fano, dai cambiamenti climatici a un seminario di studi sul pensiero del Giappone. Previsti incontri dedicati anche alla Cina, alla scienza e alla musica elettronica in collaborazione con Fano Jazz Network. In un momento difficile come questo, ha detto l'assessore Tinti, è perfetta la parola resilienza. Il circolo non si è reso, ma anzi ha saputo adattarsi alle nuove esigenze, uscendo dai confini e dando un taglio innovativo al programma ricco e variegato. E' sempre più un pollo di attrazione sociale e culturale. La nostra spinta è andare in questa direzione, farla diventare, se possibile nel tempo, anche la collaborazione di Gioni e di altre persone, un'eccellenza. L'idea è di catturare le tematiche più importanti che circolano a livello nazionale e internazionale, le forme artistiche più interessanti, più significative e portarle qui, aprire un dibattito, un fervore culturale che possa essere anche creativo per i giovani.